A Giulianova l'assessore al commercio Marco Di Carlo ha annunciato di essere al lavoro per apportare delle modifiche alla collocazione del mercato del sabato al paese. Lo spostamento riguarderà 15 banchi che occupano il lato sud di Piazza della Libertà e che verranno trasferiti sul lato nord. Il mercato del paese che abbiamo ripreso tre anni fa con solo 7 banchi, oggi ne sono 15, abbiamo ascoltato quelle che erano le istanze, le problematiche da parte degli esercizi in sede fissa e ovviamente anche degli ambulanti. Faremo una prova che poi magari nel caso sia positiva potrà diventare definitiva nello spostarlo sullo stesso viale ma lato nord. Quindi per intenderci viale della libertà salendo anziché in fase di discesa. Un'idea nata a seguito della richiesta avanzata sia da commercianti presenti che si affacciano sulla discesa a sud della piazza sia dagli ambulanti che hanno manifestato la volontà di spostarsi sul lato opposto di fronte alla scuola che di sabato resta chiusa e non comporta disagi. Per rendere però attuabile la modifica occorrerà valutare eventuali ripercussioni sul traffico. Per questo motivo prima si procederà ad effettuare un periodo di prova che inizierà a fine mese. Sì, prepariamo adesso tutte le carte, abbiamo avvisato anche gli enti, soprattutto la problematica potrebbe essere della viabilità. Abbiamo avvisato tutti gli enti, non abbiamo per il momento avuto riscontri, quindi il tempo di preparare tutte quelle che sono le autorizzazioni, i piani di sicurezza e poi inizieremo questo periodo di prova del mercato. Abbiamo dato tanta attenzione ai mercati della città, li abbiamo un po' rivoluzionati, abbiamo ereditato una situazione dei mercati che non era all'altezza della nostra cittadina a livello di qualità, a livello di servizi, a livello di fruibilità. E quindi da partire dal mercato del giovedì che ora è diventato uno dei mercati più importanti della provincia di Teramo, lo abbiamo collocato anche a seguito di condivisioni con tutti quelli che sono ovviamente gli esercizi commerciali coinvolti. Il mercato del lunedì all'annunziata, adesso anche il mercato del sabato, il mercato del martedì a Villa Pozzoni. È stato un lavoro lungo, condiviso, che però ci dà grande soddisfazione.